vai salta la porta per la cremina aglio marisa dai tanti a curi a te tanti a curi artati marisa aspetta devo soffiare dai soffia tutti i cioccolatini per i rivolnesi tutti i cioccolatini per i rivolnesi tutti siamo addorso non lo si non lo ha detto a rivolnesi non lo abbiamo ancora mangiato non lo manca l'operatore tu è mini ti sei per piacere ti sei per piacere ti sei per piacere ti sei così ti fa no così ha preso a rum buoni ragazzi ragazzi